Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6 edizione della sera. In apertura l'emergenza coronavirus, l'ordinanza del Ministro della Salute Speranza obbliga al tampone chi rientra in Abruzzo da Spagna, Grecia, Malta e Croazia, oltre a chi rientra dalla Romania, come già dal 24 luglio scorso. Intanto 16 nuovi casi di contagio, quest'oggi nella nostra regione, il punto sull'emergenza sanitaria nel servizio. In quarantena chi rientra da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. L'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza disciplina e rientri anche in Abruzzo e impone a chi abbia soggiornato o transitato in questi quattro paesi negli ultimi 14 giorni di sottoporsi a tampone entro 48 ore dall'arrivo e di rimanere in isolamento domiciliare fino alla comunicazione dell'esito negativo del test. Dell'ordinanza sono state informate le ASL, le prefetture, la direzione marittima di Pescara, la Saga e l'ENAC. Il provvedimento si aggiunge a quello ancora in vigore dallo scorso 24 luglio che riguarda chi rientra dalla Romania. Chi atterra l'aeroporto d'Abruzzo con uno dei voli che provengono da Spagna e Malta sarà subito sottoposto a tampone o ronasale in locali allestiti direttamente nello scalo. Questo già dal 16 agosto, quando arriverà un aereo da Girona in Catalogna. Chi invece tornerà tramite treno o un mezzo privato dovrà comunicare il rientro all'ASL e sottoporsi a tampone comunque entro 48 ore. Da inizio marzo ad oggi, ha dichiarato il presidente della Saga Enrico Paolini, non abbiamo registrato alcun caso positivo ma non dobbiamo abbassare la guardia, ha concluso Paolini. Nuovi casi di contagio infatti sono scoperti costantemente. Nelle ultime 24 ore in Abruzzo ve ne sono 16, due nella provincia aquilana, uno in quella di Chieti, due in quella di Pescara e 11 nella provincia di Teramo. Di questi, 7 riguardano ospiti del CAS di Civitella del Tronto. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 234, più 13 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti. 24 pazienti, ovvero uno in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, uno è ancora in terapia intensiva, mentre gli altri 209, più 12 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. In Abruzzo, ricorda l'assessora regionale alla salute Nicoletta Veri, c'è ancora l'obbligo di indossare la mascherina, anche all'aperto, in tutte quelle situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento. Un memorandum che giunge alla vigilia del weekend di Ferragosto, durante il quale sono temuti assembramenti sconsiderati. Un appello, quello di rispettare le misure anticontagio, rivolto specialmente ai più giovani, che stando all'abbassarsi dell'età media dei contagiati, sarebbero coloro maggiormente esposti al virus, per motivi che riguardano lo stile di vita. E ora la cronaca. Una discarica di 700 metri quadrati è stata apposta sotto sequestro a Cappelle Sultavo, in provincia di Pescara, a far tornare alla luce la discarica e il rogo del 4 agosto scorso. Stefano Recanati. I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, NIPAF del gruppo Carabinieri Forestali di Pescara, hanno posto sotto sequestro una discarica abusiva di circa 700 metri quadrati, oltre ad aver depositato presso la Procura della Repubblica di Pescara una denuncia contro ignoti per incendio boschivo e gestione di rifiuti non autorizzata in località Terra Rossa di Cappelle Sultavo. Il ritrovamento è avvenuto a giorni di distanza dall'incendio del 4 agosto scorso, che per parecchie ore ha tenuto con il fiato sospeso un'intera popolazione, interessando una decina di ettre di vegetazione tra boscata ripariale, cespugliata ed erbacea secca. I complessi accertamenti in sede di sopralluogo, oltre ad alcune testimonianze contrastanti, finora non hanno consentito di individuare il responsabile dell'incendio boschivo, visto che ancora non è stato possibile stabilire con precisione la superficie percorsa dall'incendio, il punto d'innesco ed il suo andamento sul terreno, condizionato dal forte vento e dalla presenza dei numerosi rifiuti presenti nell'area. Invece, le fiamme hanno portato alla luce una discarica abusiva, nella quale sono stati ritrovati rifiuti combusti di varia natura, tra cui pneumatici, rifiuti ingombranti, materiali edilizi di scarto più o meno interrati, lastre di Eternit ed un'autovettura con targa parzialmente leggibile. A complicare ulteriormente l'opera di accertamento dei forestali, la presenza sul posto di numerose e diverse strutture interessate o minacciate dal fuoco, abitazioni varie, un ex maneggio abbandonato, un impianto di lavorazione di inerti, terreni coltivati su un ex di scarica comunale. L'autorità giudiziaria competente, ha dichiarato il comandante del gruppo carabinieri forestali di Pescara, è stata informata dell'accaduto, anche con apposito fascicolo fotografico, ed è stata richiesta la possibilità di effettuare ulteriori particolari attività di indagine necessarie all'accertamento dei responsabili sia dell'incendio che della discarica abusiva. Esprime moderato ottimismo il direttore di Confagricoltura Stefano Fabrizi rispetto ai fondi Masterplan per il Fucino, riprogrammati dalla regione Abruzzo. I progetti pronti dal 2018, secondo Fabrizi, saranno attuati. Il sistema in riguo completato per il 2023. Alfredo Primante. Noi speriamo che siano effettivamente delle esigenze di cassa da coprire e che questi soldi non vengano effettivamente stornati, ma siamo sicuri che non può essere fatta questa operazione. Nonostante infuri la polemica politica sui fondi Masterplan riprogrammati, tra i quali ci sono i 50 milioni destinati al nuovo sistema in riguo del Fucino, il direttore di Confagricoltura Abruzzo Fabrizi non è eccessivamente preoccupato dalla decisione dell'Aggiunta regionale, nata dall'esigenza di coprire gli interventi a sostegno dell'economia regionale post-Covid. Per il progetto del Fucino, dice ancora Fabrizi, ci sono stati dei ritardi imputabili alla complessità del progetto, ma anche alla burocrazia. I progetti infatti sono pronti già dal 2018, ma non sono state fatte legare da parte della stazione appaltante. È un progetto molto complesso che non riguarda solo l'impianto di irrigazione, perché riguarda le vasche di laminazione, l'invaso di amplero, riguarda anche la messa a regime di tutti quanti il sistema della depurazione, e anche degli interventi di tutela idrogeologica. A ottobre del 2018 i progetti erano stati consegnati dall'autorità di distetta alla regione. A ottobre del 2018, ricordo, c'era l'amministrazione precedente, quindi non si può imputare a chi è venuto sei mesi dopo che ci sono stati ritardi. Nel momento in cui furono consegnati i progetti, questi potevano essere già canterizzati. Sono stati canterializzati l'anno successivo, praticamente ad agosto dell'anno scorso, quando è stata fatta non una modifica sui progetti. Sono state scelte le priorità di questo progetto complesso. Il nuovo sistema Errigo del Fucino comunque resta un'opera strategica per il settore primario della regione, soprattutto per garantire competitività al prodotto agricolo abruzzese. Tutto sommato per successive approssimazioni arriveremo finalmente a dare al territorio, agli agricoltori, un impianto Errigo che gli consenta a loro di fare un'agricoltura un po' più facile sotto questo punto di vista, risparmiando tra l'altro molta acqua. Per agosto è alle porte e sarà, secondo le previsioni, con bel tempo e caldo nella nostra regione, dove si prevede il pienone sulle spiagge. Ovviamente dovrà avvenire rispettando tutte quelle misure anticontagio, così come ricordava l'assessore alla salute Nicoletta Berin. Abbiamo parlato in apertura di questo telegiornale. Ascoltiamo ora il punto di vista dei balneatori nel servizio di Paolo Renzetti. Sole e caldo, Ferragosto con i fiocchi sul mare abruzzese, si prevede il tutto esaurito. Padovano, il caso di dire era ora, dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, dopo tanti problemi, tante preoccupazioni. Finalmente a Ferragosto anche i balneatori potranno vedere le loro spiagge piene di bagnanti. Sicuramente abbiamo avuto negli ultimi dieci giorni una richiesta di prenotazione notevole. Era da anni che non si ripeteva la presenza di queste richieste di prenotazione a parte delle persone che vogliono venire al mare. E' chiaro che questo ha avuto un effetto legato al fatto che fino a due mesi fa c'era molta incertezza, se andare in spiaggia, se stare a fare il bagno insieme ad altri. Comunque facciamo tutto questo sempre nel rispetto del distanziamento da parte delle persone, con il rispetto dovuto dal protocollo che è stato emanato su tutti i lidi, su tutti gli ombrelloni. Gli stabilimenti bagnini sono super attrezzati, il salvamento con i bagnini Ea H24 sul posto, smoto d'acqua, gommoni salvati, c'è tutta l'attenzione. L'HP di Porto, le forze dell'ordine, abbiamo fatto un summit ieri mattina per mettere in piedi un piano di pronto intervento. Mi auguro che non ce ne sia bisogno. Una raccomandazione ai bagnanti, diamoci una mano a vicenda e evitiamo gli assembramenti. Abbiamo perso le serate all'insegna della Movida, li abbiamo perse, va bene, ma non abbiamo perso l'allegria, lo spirito e di guardare al futuro. Padovano, tra l'altro se le previsioni meteo dovessero essere confermate, si prospetta un'estate allungata fino a ben oltre settembre? Beh, quello sarebbe il top. Fare il settembre al recupero del mese di giugno per noi è il top. Se vogliono venire al mare, hanno pagato fino al 9 settembre, noi gli daremo gratis fino a tutto il mese di settembre. Purché la gente possa venire al mare e trovare la tranquillità, trovare i servizi, il sorriso, l'accoglienza, la benevolenza. D'altronde noi viviamo, mi viene la pelle d'oca a dire queste cose, viviamo di un turismo di prossimità. Noi non abbiamo turisti che vengono dalle altre regioni. Noi abbiamo sempre campato col turismo abruzzese. Andiamo nella Marsica. Il sottosegretario della Giunta regionale con delega ai trasporti, Umberto D'Annunzis, spiega il piano di investimento per l'interporto di Avezzano che consentirà di far arrivare le merci via treno. Simili investimenti, dice il sottosegretario, saranno fatti anche negli altri porti e interporti abruzzesi. Abbiamo licenziato in giunta una delibera che è stata fortemente voluta dal Presidente Marsiglio per fare in modo che il centro smistamento merci della Marsica, più comunemente chiamato Interporto di Avezzano che oltretutto era stato realizzato con un investimento di 33 milioni su un'area di 450 mila metri quadri al fine di implementare il sistema logistico regionale. Questo interporto era rimasto monco, nel senso che non arrivavano i treni, si pone fine a questo problema attraverso un investimento da parte della Regione Abruzzo di 300 mila Euro che consentirà a RFI, che contribuirà anche lei con una quota a parte, di fare in modo che questo interporto possa avere la massima funzionalità. Sì, i tempi previsti sono 12 mesi per la realizzazione dell'intervento, quindi noi riteniamo che RFI in qualità di soggetto attuatore poi sarà molto rapido per fare questo intervento. È un intervento importantissimo, è un intervento che la Regione Abruzzo sta facendo, sta cercando di portare a compimento non solo a Avezzano, ma anche in quei interporti e porti che erano rimasti quasi non usati, appunto perché mancava l'ultimo pezzo, mancava il raccordo con la rete ferroviaria nazionale. E quando dico questo mi riferisco sia all'interporto di Avezzano, ma al porto di Ottone e al porto di Vasco, che insieme all'interporto di Avezzano potranno essere un volano per la nostra economia, in quanto sicuramente saranno un miglioramento per tutto il sistema logistico regionale e per tutta la mobilità regionale. Andiamo avanti con la cronaca. Erano partiti ieri mattina da Massa ad Albe, nell'Aquilano, diretti sul Monte Velino, a quota 2487 metri di altezza. I sette scout romani, tutti ragazzi fra i 16 e i 19 anni, accompagnati dal capogruppo 33, rimasti bloccati e salvati dal soccorso alpino. Il sentiero scelto in genere viene percorso da un escursionista medio in quattro ore. I sette scout però hanno impiegato molto di più, probabilmente anche a causa del peso eccessivo degli zani che indossavano. Alle 20 di ieri sera erano ancora a quota 2150 metri e mancavano 300 metri per raggiungere la cresta del Monte Velino. Ma ormai il sole stava tramontando e affrontare il ritorno con il buio sarebbe stato impossibile. I ragazzi, spaventati dall'idea di trascorrere una notte all'addiaccio, hanno quindi allertato il soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo, prontamente intervenuto con delle squadre da terra che sono subito partite da Massa ad Albe. Quando gli uomini del soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo alle 23 di ieri sera hanno raggiunto a piedi i ragazzi e si sono sincerati del fatto che stessero tutti bene, a parte un po' di paura ovviamente, li hanno ricondotti lungo il sentiero a Massa ad Albe dove sono arrivate alle 4 di questa mattina, tutti sani e salvi. Il soccorso alpino e speleologico ricorda agli escursionisti alcune norme per approcciare la montagna in sicurezza, ovvero portare negli zaini il necessario per gli imprevisti, senza sovraccarichi di pesi che potrebbero affaticare inutilmente, calcolare sempre bene i tempi di percorrenza e portare sempre il cellulare con sé. Cambiamo decisamente argomento dopo le polemiche. Nelle ultime ore sul problema rifiuti a Pescara arriva la risposta della municipalizzata Ambiente S.P.A. Direttore, si parla di rifiuti a Pescara, c'è un problema nella raccolta perché nelle ultime ore ci sono state delle polemiche, qual è il problema che state incontrando in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane? Allora, le polemiche ci sono state tutti gli anni in questo periodo, il motivo principale è che Pescara accoglie oltre 150 mila persone in più, che sono turisti, che sono persone che frequentano le nostre spiagge e le nostre strutture. Queste persone producono rifiuti a Pescara e quindi i volumi aumentano notevolmente. Dopodiché ci sono in questo periodo storicamente degli abbandoni che aumentano e come tali necessitano di tempi di ripristino che devono essere necessariamente importanti perché i rifiuti devono essere prima verificati, analizzati e poi raccolti in maniera differenziata. Molti chiedono però ad Ambiente S.P.A. più uomini e più mezzi in strada. Voi state rispondendo a queste richieste? Noi abbiamo 40 persone in più nel periodo estivo e abbiamo dei mezzi presi anche a noleggio per questo periodo proprio per far fronte all'incremento di attività che noi prevediamo. Però questo non è sufficiente perché non è possibile prevedere dove avvengono gli abbandoni. Perché gli abbandoni avvengono in tutta la città e inducono degli interventi mirati che debbono essere necessariamente poi effettuati dal nostro personale e dai nostri mezzi. Assicuriamo spazzamento, assicuriamo le operazioni che ci saranno a seguito degli eventi che ci saranno sul territorio, quelli previsti e quindi riconsegneremo come tutti i giorni, come tutte le mattine, una città vivibile ai pescaresi. Problemi maggiori? Inutile sottolinearlo, direttore, ci sono anche, soprattutto in estate, lungo le riviere? Ma vede, lungo le riviere lì noi abbiamo del personale che viene proprio utilizzato per tenere sotto controllo e pulire le riviere. Quelle sono molto sfruttate, vengono molto sporcate ma vengono anche altrettanto intensamente pulite per fare in maniera che la gente che va al mare possa usufruire di strutture belle da vedere oltre che pulite. E a proposito di inquinamento del sindaco di Vasto, Francesco Menna spiega la motivazione legata alla normativa anti-covid che ha portato ad annullare le ultime due serate di Sax on the Beach, la rassegna musicale che si è tenuta all'interno della riserva naturale di Punta Derci. Sulle denunce degli ambientalisti risponde con una battuta chiedendo il falò di confronto, il servizio è a cura della redazione di zona locale. E col Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza ma soprattutto alla luce dei DPCM, delle norme che il Governo nazionale ha emanato, delle ultime circolari, che gli eventi debbano essere acchiusi sotto 200 persone o fino a 200 persone, all'aperto fino a 1000 persone ma garantendo la registrazione all'entrata e all'uscita, il transennamento delle aree garantendo distanziamento sociale, registrazione, posti a sedere con distanziamento, sicurezza, vigilanza, che prevede quindi il circuito dall'ingresso all'uscita, sicurezza da parte degli organismi di vigilanza. Questo a un certo punto non era più fattibile in una zona, in una location come Punta Penna e quindi siamo stati costretti per ragioni legate alla normativa anti-Covid a rimandare questa bellissima manifestazione quando i tempi saranno migliori. Io sono abituato alle denunce, ne ho avute così tante che oramai penso di nutrirmi di denunce. Sono stato denunciato per la presenza delle tartarughe nella villa comunale, sono stato denunciato perché non si capisce dove vanno spostate queste tartarughe ma non esiste un sito in Italia dove metterla. Sono stato denunciato per le anguille a Fosso Marino, dove penso che ci sia ancora un accertamento in corso, per la presenza di rane a Fosso Marino. Solo per giovanotti avrò 8-9 denunci di queste associazioni, ricordo una in particolare che è intervenuta anche giorni fa che si occupa di certi tipi di uccelli, gli ornitologi mi sembra che si chiamino. Io rispondo come sempre, rispondo con il lavoro, rispondo con la correttezza, rispondo col sorriso, non mi sono mai permesso di rispondere alla denuncia con la denuncia, ma mi sono sempre rapportato con gli stessi con la capacità del confronto, cioè chiedendo farlo di confronto. Lo chiedo ai miei uffici, lo chiedo naturalmente a tutti per individuare la strada che meglio possa rappresentare la mediazione. Ed eccoci giunti alla pagina sportiva, seduta di rifinitura stamani al poggio per il Pescara, che domani sera a Perugia si gioca alla salvezza partendo dal gol di vantaggio della gara d'andata. Assente Balzano, quasi certa la defezione di Drudi. Per cementare ulteriormente lo spirito di gruppo, data la straordinaria importanza della posta in palio, il tecnico Andrea Sottil ha convocato tutti e poi avverte, domani servirà coraggio. Andrea Costantini. Lasciarsi alle spalle il successo di Nuoedi e giocare come se si parta dallo 0-0, Andrea Sottil lancia il suo input per la partita di domani sera al Curi di Perugia, una gara che esprimerà un verdetto irrimediabile, retrocessione in Serie C o permanenza in Serie B. Sottil glissa sulle polemiche con Goretti e il Perugia di questi giorni e anche sul litigio di ieri in strada tra Bruno e un tifoso. Attenzioni solo sul campo e sulla partita della verità. Vinta la prima, questa ricomincia un'altra gara e quindi noi dobbiamo affrontarla con un grande coraggio, senza fare calcoli, senza fare ragionamenti, ma pensando solo a giocare e giocare per vincere. Questa è l'unica nostra ricetta per la partita di domani, quindi aggressivi, coraggiosi, osare e giocare per il gol. Significa essere aggressivi, significa non subire l'avversario, significa che nella testa dobbiamo avere solo la vittoria. Per centrare la salvezza il Pescara non dovrà perdere. Una sconfitta con almeno due gol di scarto darà la permanenza in B al Perugia. Una vittoria degli Umbri con un gol di vantaggio manderebbe la gara ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. In una giornata come quella di domani, che secondo il centro di competenza nazionale del Ministero della Salute, vedrà a Perugia una temperatura percepita di 36 gradi, con un bollettino che parla di livello 3, forte disagio. Data l'importanza del match, tutti convocati, anche se Balzano è out, mentre per Drudi le speranze sono al lumicino. Sottilla ha provato anche Bettella, ma è probabile la conferma di Scognomiglio al fianco di Campagnaro. L'altro ballottaggio resta quello tra Castanos e Busellato. C'ho qualche dubbio, me lo terrò fino alla fine domani, c'è ancora l'ultimo allenamento di rifinitura e poi deciderò come schierare la squadra e chi schierare. È chiaro che abbiamo pensato più che altro a noi, a come migliorare le cose che secondo me andavano migliorate per mettere in difficoltà ancora di più il Perugia, sul piano del palleggio, della verticalizzazione, su tante cose. È chiaro che la fase difendente bisogna stare attenti e soprattutto conoscendo le caratteristiche di Emello, di Melchiorri, di Falcinelli, di Buonaiuto, ma lì ne hanno tanti, cercare di trovare i giusti accorgimenti. Assolutamente sì, anche se mi è stato dato dell'antisportivo, che sono stato io l'artefico, ho già risposto per me, ognuno guarda in casa propria e panni sporchi se li lava in casa, io sono abituato così. Sicuramente io devo essere il primo a mantenere lucidità, serenità e trasmettere ai ragazzi. Poi è chiaro che siamo tutti di carne e ossa qui, non siamo degli immortali, non siamo dei robot, non siamo delle macchine, siamo degli umani fatti in carne ed ossa, con un cuore che batte, batterà forte, ci saranno grandi emozioni, però io devo superarmi in questo, essere più lucido e sereno possibile e trasmettere ai ragazzi. A proposito del match di domani sera, sarà l'esperto Gianluca Aureliano della sezione di Bologna a dirigere la gara di ritorno di play-out tra Perugia e Pescara. Con i biancazzurri ci sono otto precedenti, con tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Positive le due direzioni di questa stagione, con due vittorie esterne del Delfino ad Ascoli e ad Empoli. Ben sedici precedenti tra Aureliano e il Perugia, con un bilancio di cinque vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte. In questa stagione il Grifo ha collezionato un pari a Salerno e una sconfitta casalinga con lo Spezia. Al VAR ci sarà Juan Lucas Acchi, che ha diretto la gara dell'ultima giornata tra Chievo e Pescara, che ha condannato i biancazzurri ai play-out. Adesso andiamo avanti in Serie C parlando del Teramo. La Teramo Calcio rende noto di aver trovato in giornata l'intesa per la risoluzione del rapporto di lavoro in essere con l'allenatore Bruno Tedino e il suo vice Carlo Marchetto, già sollevati dai rispettivi incarichi lo scorso 16 di febbraio, ed il match analyst Alcide di Salvatore. A loro la società augura le migliori fortune professionali e umane. E' corteggiato da club di Serie B e Serie C. Ora Tedino è libero di sottoscrivere un contratto con un'altra società. Adesso la Serie D è stato richiamato a Pineto all'inizio del girone di ritorno dello scorso campionato. Dopo il lockdown, pochi dubbi sulla sua conferma dal parte del presidente Silvio Brocco. Stiamo parlando di Daniela Maulo che riparte con entusiasmo sulla panchina del Pineto e confida in una stagione da protagonista della squadra che ha da pochi giorni iniziato la preparazione. Vediamo. Sicuramente inizia una stagione tipica perché veniamo tutti quanti da 5 mesi in attività e poi con la speranza di poter riprendere il 27 settembre. Però questo ancora sarà da vedere. Noi mi sembrava sempre importante iniziare dopo tutto questo periodo così d'attesa e avremo il tempo a disposizione necessario per arrivare a una condizione, penso, importante per quando inizia il campionato. Il Covid ha portato delle problematiche a tutti, dalla Serie A ai dilettanti. Quindi adesso bisogna adattarsi a questa nuova situazione, ci sono i protocolli da rispettare. Questo sarà fatto da parte di tutti e mi auguro che quando inizia il campionato ci sia almeno il pubblico che inizia a giocarci un calcio vero come l'abbiamo lasciato. Cosa le ha chiesto la società quando l'ha confermata? Sicuramente la società ha chiesto di fare un campionato importante, abbiamo preso dei giocatori importanti e ci prepariamo per questo, cerchiamo di migliorare i risultati delle stagioni precedenti. Sicuramente fare un campionato di vertice è il nostro obiettivo, ma sapete come è la Serie D. Ci sono altre tante squadre importanti come Campopasso, Re Canatese, lo stesso Notaresco che ha finito il campionato in seconda e terza posizione. Quindi non sappiamo i gironi quali saranno, se ci sarà il Foggio, se ci sarà il Rimini e via dicendo. Quindi tutto un po' da valutare. In Serie D vincerà soltanto una squadra, quindi poi saranno i particolari a fare la differenza. L'ultima cosa è una squadra, una rossa al completo o c'è ancora da animare qualcosa? Sicuramente qualcosina dobbiamo fare perché l'organico non è molto ampio. Per un campionato è importante, bisogna avere una rossa che abbia alternative perché poi sarà a lungo e ci sarà a giocare la Coppa Italia. Al momento abbiamo un organico a livello numerico inferiore a quello scorso. Sicuramente uno o due giocatori li prenderemo. Adesso valuteremo e non prenderemo tanto per prendere. Prenderemo magari uno o due giocatori che possa fare ancora salto di qualità alla squadra. E questo era l'ultimo servizio. Ciò che avete visto, se vorrete potrete ritrovarlo online sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it Prima di salutarvi vi ricordo che questa sera cevelò il programma sul mondo del ciclismo ideato da Luciano Rabbottini e condotto da Jacopo Forcella questa sera alle 21 su TV6. L'informazione torna alle 23. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.